E' un miracolo! E tu volevi che restassimo con Andy? Per chi siamo? I suoi giocattoli! Il vostro Andy vi ha dati in beneficenza, eh? Beh, è peggio per lui, sceriffo. Ora non può più ferirti. No, 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 no! E vediamo di trovarvi un posto. Ken, dov'è finito quel ragazzo? Ken, giocattoli nuovi! Cosmico! Scendo in un lampo, lozzo! Allora, chi vuole fare con Ken un giro da sogno? Mostriamo ai nostri amici il posto dove staranno. Ah, se volete venire da questa par... Ciao, io sono Ken. Io, Barbie. Non ci siamo già incontrati? Me lo ricorderei. Graziosi i tuoi scaldamuscoli. Bello anche il tuo full-on. Sbrigati, Ken. La ricreazione non dura in eterno. Al volo, lozzo. Per di qua, seguitemi. Aspettatevi grandi cose, amici. I pargoli adorano i nuovi giocattoli. Che urso simpatico. E profuma anche di fragole. Oh. A dirla tutta, qui al Sunnyside abbiamo tutto quello che un giocattolo può desiderare. Vi sentite vecchi? Potete smettere di preoccuparvi. Il nostro centro benessere e riparazioni vi manterrà belli, imbottiti e lustri. E qui è dove abito io. La casa da sogno di Ken. C'è la discoteca, una di un buggy e una stanza intera adibita a guardaroba. Tu hai proprio tutto. Tutto, meno qualcuno con cui condividerlo. Oh. Oh!